Buongiorno, benvenuti al webinar di oggi, sempre per il progetto Delivery Unit nazionale. Oggi l'architetto Liuzzo ci parlerà dello sviluppo delle capacità amministrative per la valutazione di impatto ambientale. Avrete a disposizione lo spazio della chat per porre domande alla relatrice e ci riserveremo l'ultimo quarto d'ora della presentazione per rispondere alle domande ma vi invito a scriverle da subito e soprattutto se avete bisogno di chiarimenti a segnalarlo così che la relatrice possa magari rispondere in tempo reale. Chiedo all'architetto Liuzzo di accendere webcam e microfono così da poterle passare la linea. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Perfetto. Allora io resto qui in back, scrivete tranquillamente in chat se avete problemi d'ordine tecnico, altrimenti vi ricordo che potete usare la chat per le domande. Buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti. La giornata di oggi verrà dedicata alle guide ai format per i due livelli della valutazione di impatto ambientale, quindi per la verifica di assoggettabilità, quindi ciò che deve fare il proponente, ciò che va a valutare appunto l'autorità competente in tema di sviluppo dei documenti da presentare per le due procedure. Sapete benissimo che nel tempo format e documenti sono variati, l'ha variati spesso la commissione perché ha aggiornato le direttive appunto via, ma soprattutto sono state variate per il necessario innesto delle procedure semplificative in quanto a seguito di una relazione fatta nel 2015 dalla commissione europea e dei vari appunto istituti a corollario del funzionamento della commissione, era emerso che comunque per la valutazione di impatto ambientale ma anche per le procedure della verifica di assoggettabilità appunto intercorressero tra la distanza del proponente e la decisione dell'autorità competente 350 per le verifiche di assoggettabilità, 350 giorni e gli oltre 280-300 giorni per la valutazione impatto ambientale. Ciò comportando a parità diciamo è per l'osservatorio che l'unione che la commissione aveva e ha tutt'oggi sulle procedure dei paesi membri diciamo delle sperequazioni nei tempi ma anche dal punto di vista delle ricadute socio economiche per gli investitori per le imprese per chi facesse sostanza compresi anche gli enti pubblici perché gli enti pubblici sono anche titolari di progetti e interventi che possono essere suscettibili di via quindi questi ritardi incidevano anche sullo sviluppo socio economico sia a livello appunto dei privati sia a livello comunque della crescita diciamo delle pubbliche amministrazioni e delle comunità pubbliche. Che cosa succede quindi? Rilevando questa lungagine nei tempi, rilevando anche alcune criticità connesse alle lungaggini che abbiamo visto la parte essere stata diciamo in buona parte risolta con la compressione laddove comprimibili della durata dei procedimenti, degli endoprocedimenti. Sappiamo benissimo che per direttive non possiamo più comprimere dei tempi né andare a innescare diciamo delle soluzioni di semplificazione o facilitazione che siano in contrasto con gli obiettivi e i procedimenti individuati alle direttive. E una delle criticità che da anni Formez ha segnalato in più webinar compreso appunto gli attuali del progetto Delivery Unit sta proprio nella cattiva applicazione o nella disapplicazione di quelli che sono i contenuti e criteri che ogni soggetto proponente, ogni autorità procedente, quindi sia il settore privato che il settore pubblico dovrebbe tenere in debito conto. Oggi noi utilizzeremo le slide ovviamente al solito come facciamo perché è una carrellata su criteri e metodi che è abbastanza diciamo complessa. In realtà però alla fine, poco prima della fine, cerchiamo di capire qual è l'impatto anche perché i tempi dei webinar non consentono la verifica su applicazioni pratiche, sarebbe davvero impossibile farlo anche in un'ora e mezzo per già progetti per esempio già approvati e quindi verificare l'excursus. Però oggi quello che dovrò sopremettere è che le criticità effettivamente derivano soprattutto dalla carenza di documentazione, dalla non esaustività dei contenuti e dall'assenza di indagini che devono essere il presupposto per la costruzione di un progetto compatibile o sostenibile comunque con l'ambiente in termini generali e per qualsiasi componente dell'ambiente considerato. La vera criticità e io l'ho verificata sia come sviluppatore lavoro in un ente pubblico, lavoro a un comune, quindi sviluppo progetti, che come valutatore in commissione regionale via è che per ciò che concerne la progettualità proposta dagli enti pubblici vigono le disposizioni e le regole del codice dei contratti, appunto il 50 2016 ultimo con le successive modifiche integrazioni e là i contenuti, i format progettuali che hanno una refluenza significativa per le due procedure che stiamo andando ad analizzare, sono assolutamente individuati, i contenuti e criteri minimi devono essere rispettati appena la non verifica o validazione dei progetti, quindi già da parte pubblica comunque queste garanzie di completezza della documentazione delle informazioni è già resa per legge. Cosa succede? Ciò non viene ovviamente imposta al proponente privato laddove non vi siano interventi di interesse pubblico o interventi che il decreto legislativo 50 del 2016 individua, cioè in sostituzione chiamiamo così del pubblico, quindi il PPP, partenariato pubblico privato, particolari forme di concessione, i concorsi di progettazione, tutto ciò che comunque è assimilabile per il privato in ordine appunto ad oneri, criteri, documenti in luogo dell'intervento pubblico. Quindi laddove il soggetto privato gestisce, procede, procede, progetti, presenta istanza, si entra diciamo in un partenariato pubblico privato, queste regole si applicano, normalmente no. Allora, l'Unione Europea di questo si è accorto che c'è questa diciamo differenza, quindi da una parte ha tutelato il proponente privato nella garanzia della tempistica, quindi in qualche modo è intervenuta correttamente, devo dire, sulla compressione di tempi che effettivamente erano morti o comunque non erano assolutamente risolutivi per entrare anche nel cronoprogramma progettuale. Dall'altro però, con l'aggiornamento della direttiva via, fatta con proprio appunto direttiva del 2014, non ho perduto un momento, intanto mettiamo mano a quelli che sono i criteri minimi e contenuti degli studi, perché appunto la criticità e i ritardi non sono dovuti solo al mal costume diciamo così della pubblica amministrazione, in realtà, e questo vale per il pubblico, vale per il privato, quindi per gli sviluppatori degli studi, in realtà è per carenza e criticità nella documentazione. Quindi da una parte si interviene sui procedimenti, dall'altra si interviene sulla documentazione a supporto della decisione finale. Quindi fa nel 2017, a seguito di questo aggiornamento fa tre grandi guide, io le ho illustrate in vari webinar, quindi poi vi posso anche rimandare webinar che abbiamo già fatto con Formez, ma oggi è molto importante capire che tutte le indicazioni che devono essere eseguite a mio parere, non solo dal proponente pubblico diciamo, ma dal privato devono essere uniformi e omogenee, perché appunto avremo sempre una tempistica condizionata dalla restituzione della documentazione, per esempio, dalla incertezza in termini di decisione, se non determina impatto, se il progetto può essere procedibile, cioè contiene tutti gli elementi per andare avanti alla parere ambientale. Quindi oggi noi terremo conto di queste due grandi criticità, una che è quella che gli studi presentati dai proponenti privati non sono omogenei a quelli presentati dal pubblico o dal soggetto che viene individuato per esercitare il pubblico, interesse, quindi per fare di fatto un'opera pubblica. E questo problema va risolto a mio parere e va risolto forse anche in termini di semplificazione, potrebbe sembrare un aggravio, in realtà no, perché basterebbe che il privato, che comunque la documentazione la deve produrre, che comunque un progetto lo deve fare, ma soprattutto in tutti questi progetti che noi analizziamo, per i quali è stato dichiarato l'interesse pubblico, ricordiamoci che per il fotovoltaico, per gli impianti da ferre in genere, ma soprattutto per il fotovoltaico, come abbiamo visto la scorsa volta nel decreto ministeriale del 2010, per il fotovoltaico è dichiarato che si tratta di interventi interventi di interesse pubblico. Quindi se sono interventi di interesse pubblico, proprio per queste procedure io pretenderei e comunque consiglierei e raccomanderei fortemente l'omologazione dei contenuti e dei criteri della documentazione anche per il privato e anche e soprattutto laddove il proponente ponga a verifica via e avvia progetti di interesse pubblico e questo non è, è sicuro che quelli di PNRR ve ne sono tantissimi e quelli che comunque sono nel decreto rinnovabili e sono nel PMIEC, quindi nel piano integrato energia e clima e sono nelle misure appunto volte all'efficientamento energetico, all'economia circolare, state tranquille che sono tutte campo della via, state veramente certi che vanno condotti con la stessa modalità e con gli stessi contenuti e criteri di un progetto pubblico. Fatta questa doverosa premessa perché forse il nodo viene sciolto e la criticità può essere risolta solo portando ad uno stesso livello il pubblico e il privato quando si tratta di opere di interesse e rilevanza pubblica. Vi ricordo tra questi appunto il fotovoltaico. Fatta questa doverosa premessa vi sto rimandando senza approfondirla in questa sede perché comunque sono state assorbite dalle linee guida nazionali, queste grandi tre guide europee, che vi sollecito a leggere. Una di queste è stata già tradotta, non è una traduzione ufficiale ma l'abbiamo già presentata e l'approfondiremo più tardi, che sono appunto le linee guida sulla via fatto dalla ESA NPA con il fascicolo documento 28 del 2020. Le altre due guide, le prime due, uno sulla fase di screening e l'altro sulla fase di scoping, quindi una per la verifica e l'altra per la via diciamo di carattere la via vera e propria, non sono state mai tradotte. Ma questo non vi deve in qualche modo, vi deve comunque accostare alla loro lettura. Per due semplici considerazioni che dobbiamo fare. La loro lettura è molto importante perché è una guida passo passo per la fase dell'articolo 19 e per la fase dell'articolo 23. Parte di questa documentazione delle guide è già confluita in una modellistica fatta da tutte le nostre regioni. Cioè per esempio, per fare un esempio, se vi ricordate, quando si fa la verifica via articolo 19 e quando si fa la via diciamo di livello, la valutazione ambientale sia con l'articolo 23 che all'interno della conferenza dei servizi paur articolo 27 bis, a un certo punto per il proponente ma anche per il valutatore spuntano delle checklist, delle liste di fattori, per le quali a seconda delle due procedure, e lo vedete sono pubblicate sui portali regionali, ma sono pubblicati anche sui portali nazionali, non sono altro che le liste dei fattori che sono state adattate dallo stato membro, nel nostro caso l'Italia, proprio sulla base del checklist contenuto in queste due guide. Quindi parte di queste due guide sono confluite effettivamente nella prassi e all'interno dei procedimenti nazionali e regionali. Infatti, oltre ad adottare modellistica che abbiamo visto uscire nel 2017 nei vari portali regionali adattata dal 2017 al 2019 con propri decreti e ordinamenti di rango appunto regionale, cosa è successo? Nel 2015 il MATM, ora NIT, ha varato le linee guida per l'articolo, appunto per la verifica soggettabilità, l'articolo 19, che sono mutuate e adattate al contesto, per quanto riguarda le checklist ovviamente, sono mutuate dalla guida on screening, sullo screening del 2017, poi nel 2020, come dicevo prima, sono state fatte le guide, è stata fatta la guida via, con il documento 28 2020, appunto del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale SNPA, ISPRA, per la redazione degli studi di impatto ambientale. Quindi ad oggi tutti i proponenti e le autorità procedenti hanno a disposizione queste due linee guida. Bene, andiamo un attimo indietro. Il livello a cui si perviene per ottenere i pareri, è classicamente il progetto definitivo, bene, sia esso redatto da privato che da pubblico, ma in realtà il codice dei contratti pubblici, ma già il regolamento 207, che regolava appunto il codice precedente, dice e recita il regolamento appunto dall'articolo 17 in poi e il codice all'articolo 23 in poi, che già il progetto di fattibilità tecnico-economica deve contenere tutte le indagini, ok, di qualsiasi tipo e deve contenere qualcosa che si chiama studio di prefattibilità ambientale, che il decreto 152 ha utilizzato come documento per la valutazione da parte appunto dell'organo competente alla valutazione e alla decisione, in ordine alla soggettabilità o meno dell'intervento. Quindi noi abbiamo un pezzo del codice dei contratti pubblici inserito nell'articolo 19, punto, e nell'allegato relativo all'articolo 19, che è per la verifica di assoggettabilità avvia, che deriva dal contratto, da un codice di contratto pubblico. Quindi già il privato utilizza, utilizza in maniera appunto disposto dal codice dell'ambiente, lo studio di prefattibilità ambientale, che fa parte del livello del progetto di fattibilità tecnico-economica all'epoca preliminare, lo troverete nelle parti vigenti del regolamento come preliminare. Allora questo cosa ci fa capire, proprio praticamente, che comunque la documentazione deve essere omogenea, al di là della tipologia di chi propone, ma deve essere la stessa per il valutatore, cioè il valutatore non può valutare diversamente un'istanza diciamo pubblica da un'istanza presentata da un privato, perché il codice dell'ambiente, il decreto legislativo 152 del 2006 vigente, all'articolo 19 individua come documento per la sostenibilità e per attivare la procedura, ai sensi dell'articolo 19 di verifica di assoggettabilità via, proprio un documento che fa parte di una progettualità normata dal codice degli appalti pubblici, che è lo studio di prefattibilità ambientale. Quindi già noi abbiamo elementi di carattere omogeneo. Allora perché avviene che invece quando uno valuta, valuta in maniera diversa, cioè il pubblico segue tutta una sua procedura, che poi guarda caso è la stessa che deve seguire il privato. E allora si torna all'origine. L'origine sono appunto i criteri e metodi. Per fare un ragionamento comune con l'Unione Europea e con la Commissione, appunto nel 2015 vengono varate queste linee guida per la verifica assoggettabilità. Cosa c'è in queste linee guida? È molto importante che andiamo a commentare. Poi alla fine visualizzeremo un caso, ma molto velocemente perché purtroppo non c'è il tempo, in cui l'innesto di criteri e di elementi per la valutazione rappresentano proprio la fase di rimente per la decisione. Allora andiamo all'articolo 19. l'articolo 19 del decreto del codice dell'ambiente dice che va sviluppato uno studio di prefattibilità ambientale rimandando sempre al codice dei contratti pubblici con i criteri e le informazioni dell'allegato appunto relativo che il codice, ora vedremo, collega all'articolo 19. Quindi noi abbiamo intanto, secondo l'allegato alla parte seconda, tipologie, e io qua vi riporto tutto perché vi serve come elemento di ripasso, ma io ci parlo sopra. Quindi non entro nel merito di quello che c'è scritto in maniera puntuale, lo utilizzo per commentare gli aspetti più salienti. Quindi alla parte seconda abbiamo gli allegati che sono progetti di verifica via di competenza dello Stato, e li sappiamo, e quindi del Ministero, e progetti di via di competenza o dello Stato della Regione. Quindi abbiamo divisi questi allegati, lo Stato e la Regione hanno le proprie verifiche, e lo Stato e le Regioni hanno le proprie tipologie e dimensioni che vanno a via. Andiamo invece per l'articolo 19. In questo allegato, punto 2, che è relativo alle tipologie e dimensioni degli interventi, per quanto riguarda la verifica e soggettabilità a via, abbiamo, per lo Stato, gli impianti eolici che eccedono i 30 MW e i fotovoltaici che eccedono i 10 MW. Quindi questi vanno a verifica via. Quelli di taglia superiore vanno sicuramente a via. Vediamo per le Regioni. Per le Regioni Vigel ha legato 2 bis. E allora, all'interno appunto della classe Industria Energetica ed Estrattiva, abbiamo, appunto, gli impianti termici che sono, appunto, superiori a 50 MW, poi gli oleodotti con i loro flussi, gli impianti per la cattura, sapete che c'è anche la cattura geologica e le CO2, e gli elettrodotti aerei esterni. E questi sono per le Regioni. Andiamo a vedere cosa si deve fare per l'articolo 19. e questo ha legato 3 gli impianti, scusate, sto continuando. La verifica soggettabilità a via sempre, appunto, per lo Stato, con le loro taglie, le loro dimensioni. Finalmente ha legato 4, appunto, di verifica soggettabilità, invece, a via di competenza regionale con i loro allegati. sapete che il decreto, gli ultimi decreti semplificazioni, hanno tolto alcune taglie e dimensioni in impianti alle Regioni e le hanno trasferite al Ministero, ma gli allegati sono sempre aggiornati. E cosa è rimasto alle Regioni? Alle Regioni, appunto, sono rimasti gli impianti non termici, quindi fotovoltaici, eccetera, non termici. Vapore e acqua calda con potenza superiore a 1 MW, quindi superiore a 1 MW vanno in Regione, fino ai 10, avete visto poi le taglie, quali sono. E poi tutti i progetti che servono solo per sviluppare i nuovi metodi, i prodotti e modifiche ed estensioni. stiamo attenti che anche per le modifiche e le estensioni dei progetti già autorizzati, abbiamo visto come l'ultima semplificazione abbia modificato il decreto 28 del 2011 con i 6 bis. Abbiamo detto che quando in un progetto autorizzato non intervengano modifiche significativi oltre certe dimensioni di superficie il 15%, e l'altezza appunto dei fotovoltaici e dei moduli non eccedente il 20%, non si fa nulla, cioè si fa semplicemente la procedura di dichiarazione inizio lavoro asseverata presso il Comune. Quindi, come vedete, ci sono anche interventi che in qualche modo poi dobbiamo andare a riprendere per capire che non c'è un collegato direttamente con questo allegato, però queste modifiche ed estensioni a seconda della taglia potrebbero non rientrare nell'allegato e non rientrare, abbiamo visto, nelle procedure ambientali. Vabbè, lasciamo perdere. Abbiamo visto la complicazione che c'è in cantiere in questo periodo. quindi che cosa fa? Parlavamo appunto della procedura con la quale si attiva l'articolo 19, si presenta uno studio preliminare ambientale, quindi che è quello, abbiamo visto, che è analogo alla prefettività ambientale che prevede il codice, perché contiene ed è stato dichiarato che deve coincidere con queste, deve contenere le stesse informazioni, quindi questo studio preliminare ambientale dovrà non solo contenere tutte le informazioni della prefettibilità ambientale, ma addirittura del preliminare ambientale definitivo, quindi molte più complicazioni, perché con il livello di fattibilità economico-finanziaria io devo fare le indagini e quindi le devo già avere. con il livello definitivo che mi introduce lo studio preliminare ambientale, quindi la fattibilità ambientale, io devo averle già espletate queste indagini, devo avere già scelto localizzazione, distribuzione nelle aree del progetto, avere fatto un progetto di cantierizzazione, fino alla dismissione sulla base di queste indagini. quindi io non posso in un articolo 19 non conoscere gli esiti di queste indagini. Io devo averlo già fatto, anche perché non esistendo più le cosiddette prescrizioni da parte dell'organo di valutazione, succede che seccamente, e per quello che lo stesso proponente dichiara, l'autorità competente decide di assoggettare o meno a via il progetto proposto. Mi spiego. Se in questo studio preliminare ambientale, che poi vedremo redatto con certi criteri delle linee guida, che vi ho anticipato nel 2015, il proponente o l'autorità procedente, quindi il pubblico privato, è esaustivo in ordine alla capacità del progetto di assorbire e di evitare, nonché di mitigare o attenuare i potenziali impatti ambientali, l'autorità che valuta, a quel punto l'autorità competente, ha tutti gli elementi per esprimersi in merito all'assoggettabilità o meno, perché è venuta meno con la semplificazione amministrativa l'indicazione delle cosiddette raccomandazioni o prescrizioni. Quindi sta nella forza della documentazione e nella forza anche della dimostrabilità, della sostenibilità e della compatibilità ambientale, quindi sta nella forza di questo documento e anche negli elaborati progettuali dimostrare che non si determinano impatti ambientali diretti o indiretti sulle componenti diretti e appunto interferite di carattere permanente e negativo e qualcuno si scorda anche di mettere quelli positivi, vanno messi quelli, cioè vanno analizzati, elencati e stimati tutti gli impatti. Quindi il documento su cui noi andiamo a valutare quando siamo valutatori o che abbiamo il dovere di sviluppare praticamente è proprio lo studio preliminare ambientale con tutte le indagini e i dati relativi allo stato dell'ambiente in assenza di progetto si intende, quindi i dati aggiornati che possono essere, visto il divieto dell'Unione di replicare informazioni, laddove sono recenti e reperibili da sitografia o da studi già pubblicati, quindi resi pubblici, il proponente, chi propone ovviamente pubblico privato dice io mi avvalgo a seconda della tipologia delle indagini e gli studi di questi studi, anche per le indagini geologiche molto spesso o sismiche di un'opera è accaduto che, per esempio, progetti già valutati e che quindi sono pubblici contengono dei punti di prelievo, dei punti di indagini a tergo, immediatamente a tergo che sono, diciamo, sufficienti e che possono non essere replicati quindi con un risparmio anche da parte del proponente, cioè laddove è possibile avere certe informazioni certe non c'è bisogno di replicarle, laddove invece il progetto interferisce o potrebbe interferire a fronte, per esempio, di piani paesaggistici esistenti, di livelli di tutela è prossimo ad aree a siti tutelati dal punto di vista archeologico è chiaro che ho già la verifica preeminare, archeologica preeminare la devo fare, cioè inutile che aspetto di farmelo dire dal proponente io lo so, sto facendo un progetto o di livello di prefattibilità o di livello definitivo mi trovo in un'area per la quale comunque non è certo escludere la presenza o è possibile escludere la presenza di substrati interessati da reperti archeologici, io già in questa fase e quindi all'interno del studio preliminare ambientale quando vado a localizzare o a giustificare la localizzazione del progetto è la via che la faccio, la verifica preventiva, ok? o comunque penso, chiedo che ci sia già io stesso mi dico vabbè in fase di realizzazione ci voglio l'archeologo e comincio a ragionare in questi termini non me lo devo fare dire perché è uno degli elementi per i quali l'incertezza quindi il fatto che non mi è stato dimostrato determina appunto un'incertezza nella valutazione e potrebbe anche andare via ecco, nel contemperare gli interessi pubblici e privati quindi lo studio va fatto con tutti i contenuti già previsti dal codice dei contratti quindi uno sa benissimo che nella valigetta degli attrezzi ci va a mettere alcune cose che può utilizzare eventuali documenti e dati certificati ed esistenti e che si deve preparare prima di presentare l'istanza a fare degli accertamenti perché vanno, come dire, rispettati alcuni precisi criteri che ora li vediamo allora, questi criteri dove li troviamo? li troviamo nell'allegato 4 bis l'allegato 4 bis è, diciamo, un promemoria ripete effettivamente contenuti da codice dei contratti e i contenuti delle linee guida ok? sia europee che nazionali poi le vediamo quindi il progetto e il progetto è localizzato quindi ha un proprio sito di progetto ma ha anche una cosiddetta area vasta quando io localizzo e quindi faccio una scelta ho presupposto che mi sono fatta le alternative ho fatto un ragionamento perché lo vado a localizzare lì parliamo di un impianto fotovoltaico comincio a vedere l'esposizione vado a vedere se si tratta di suoli agricoli vado a vedere se si tratta per esempio di suoli agricoli che non hanno normative comunali restrittive che appunto possono eventualmente non rendere compatibile la realizzazione fotovoltaico parlo di una zona agricola speciale allora io vado a localizzare e quando descrivo il progetto io devo dire non interferisco con queste componenti non impatto, interferisco quindi è un progetto che si trova in un suolo agricolo per esempio suolo irriguo dove c'è un consorzio di bonifica allora io posso interferire con la canalizzazione del consorzio di bonifica posso interferire con una rete snam ok? un oleodotto quindi io comincio a dire lo localizzo ti sto dicendo perché lo localizzo lì e per me la migliore delle localizzazioni a meno di queste interferenze e vanno segnalate tanto è vero che poi se dovesse andare a via quando si fa la conferenza dei servizi si chiamano gli organi e gli enti per i quali vi sono delle interferenze per esempio da superare sotto servizi e quant'altro dopo di che una volta che io ho analizzato il progetto l'ho descritto nella localizzazione io devo dire ma 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 c'è un trasporto ci sono mezzi di trasporto che attraversano alcuni siti sono vicino ma anche esterno oppure ci sto proprio dentro un sito della rete natura 2000 le attività di scavo per la nuova viabilità ad esempio per la condotta se si parla appunto di cavidotto potrebbe interferire e impattare sul paesaggio quindi aspetto un attimo il cavidotto lo metto interrato ma può darsi pure che questo cavidotto interrato deve travalicare un corso d'acqua e quindi no gli faccio il TOC un sistema appunto in sotterranea che non interferisce col corpo idrico eccetera eccetera quindi io sto facendo tutta una serie di ragionamenti mentre localizzo e faccio il cantiere perché io poi la costruzione e l'esercizio dell'opera e dico vero ci sono delle interferenze ma queste interferenze sono suscettibili a diventare impatti e mi preparo e mi preparo a verificarlo per far capire appunto a chi mi valuterà l'autorità competente che non ricorrerebbero o potrebbero ricorrere alcune condizioni che però se io mitico ecco mitico quindi se io sono capace di mitigare di offrire le soluzioni di attenuazione o di mitigazione dell'impatto eppure è possibile che l'autorità competente appunto in assenza della possibilità di dare delle disposizioni e delle raccomandazioni progettuali le deve dare ora il proponente deve essere talmente bravo a dire che l'interferenza pur traducendosi in impatto e lo vedremo può anche essere appunto l'impatto mitigato o addirittura in alcune parti compensato ma dio di compensazione nell'articolo 19 non parlerei perché già c'è qualcosa che fa capire all'autorità proponente che effettivamente ci potrebbero essere impatti perché noi non dimentichiamo che l'articolo 19 viene sviluppato a partire da tagli e da dimensioni del progetto stiamo attenti quindi a diventare articolo 23 non ci vuole nulla quindi l'articolo 23 parte quindi la via parte sempre per tagli e dimensioni ed è sicuramente via bene ma anche ciò che parte per tagli e dimensioni inferiori in articolo 19 non ci sta niente a diventare poi via articolo 23 quindi dovete essere bravi dobbiamo essere tutti bravi a dire il progetto è localizzato lì ho evitato di localizzarlo a fronte di certi vincoli sono sicuro che non comporta variante urbanistica perché è un fotovoltaico faccio l'esempio in zona agricola è nelle norme tecniche di attuazione nel certificato di destinazione urbanistica è sicuro che la zona agricola è e non è una zona agricola speciale ho guardato un po' la interferenza e ti dico però che ora comincia a ragionare su ciò che da interferenza può diventare potenziale impatto e a questo punto che cosa dico? ma vediamo se ci sono stati fatti degli studi delle prevalutazioni se qualcuno ha studiato il sito se vi sono progetti in un immediato o anche più vasto contorno quindi l'area vasta per i quali sono stati effettuati le reazioni geologiche cioè la reazione geologica certo non ha la scala dell'1 a 2000 quindi se è stato aggiornato un piano per l'assetto idrogeologico si è stato aggiornato appunto un piano di autorità il bacino molto spesso le aree hanno presenza di impluvi valloni anche di carattere minore canali per cui dico aspetta prima di capire se si traduce un impatto raccolgo tutti i dati e le informazioni e faccio qualche verifica che mi manca in situ cioè ora devo capire io che tra gli studi che ho e i dati che posso rilevare da indagini che mi hanno fatto di recente ma anche dai dati che io posso produrre in maniera originale perché lo devo fare perché non li ho posso capire come posso andare a gestire questi impatti in maniera tale che questi non si traducano in impatti negativi e permanenti quindi tutto questo è il primo punto delle caratteristiche dei progetti benissimo e tu mi devi dire tutte queste cose che non sto qua chiaramente a leggervi ma che vi metto come promemoria per i ragionamenti che stiamo facendo quindi il progetto l'ho descritto anche nelle interferenze nei potenziali impatti che mi approccio a verificare ed eventualmente stimare anche in computometrico cioè dobbiamo stare attenti a tutto ciò che è intervento di mitigazione va messo sempre nei computi quindi controlliamo e controllate che ci siano tutti gli interventi compresi i mitigativi tutti gli interventi relativi all'eventuale dismissione tutti se questi non vengono valutati in computometrico e non vengono valutati anche come impatti eventuali non lo so ci può essere anche un impatto da dismissione il valutatore nell'alveo, nel solco dell'incertezza lo potrebbe assoggettare sulla localizzazione ci sono gli elementi molto importanti che vengono declinati nell'allegato 5, quinto ma che vengono presi da queste linee guida del 2015 li leggiamo perché andiamo alle linee guida adesso la localizzazione deve tenere conto appunto di quella capacità di assorbimento che può avere il progetto di tutte le problematiche che si potrebbero quindi l'assorbimento significa che io se creo qualche problema devo essere capace di intervenire sia come attenuazione progettuale quindi con i CAM per esempio i criteri ambientali minimi ma che io posso anche implementare nel caso del mio progetto decido di introdurre un altro criterio ambientale minimo che tiene conto della sensibilità delle aree delle attenuazioni quindi già in fase di cantiere comincio a mitigare pure gli eventuali disturbi di carattere temporaneo con l'allestimento di barriere fonoassorbenti oppure potrei anche anticipare in cantiere gli interventi eventualmente mitigativi sul verde che già mi creano un aspetto microclimatico migliore e cominciano ad attenuare alcuni impatti che magari dato il sito e data la sensibilità del sito mettiamo che siamo in un'area prossima a una viabilità molto frequentata ma anche una viabilità storica se io già assicuro il valutatore che faccio prima le opere appunto di mitigazione anche dell'impatto visivo e anche di contenimento delle polveri eccetera eccetera già questo è un buon elemento di attenuazione che vado però a computare nel progetto e quindi con tutta una serie di ragionamenti che ora vediamo che vanno fatti all'interno appunto dello studio di prefattibilità ambientale quindi si parla dell'utilizzazione del territorio esistente approvato mi guardo intorno e dico quali sono le destinazioni da PRG non solo per la mia area ma per l'immediato contesto quali sono gli impianti già autorizzati di analoga natura li vado a vedere mi servirà per il cumulo lo vedremo e vedo se c'è una impiantistica vedo se il sito è stato oggetto di molte pressioni quindi se c'è una pressione antropica excessiva se c'è un valore ecologico elevato però a fronte di alcuni valori floristici e faunistici che sono invece in depauperamento, in perdita quindi devo andare a vedere come sta questo stato l'ambiente direttamente e indirettamente interferito se ci sono zone umide foci dei fiumi zone costiere li leggo perché li approfondiamo zone montuose come vedete sono tutti gli elementi anche della Galasso che ci riportiamo riserve e parchi naturali i siti della Rete Natura 2000 appunto compresi i cosiddetti IBA cioè quando io vado a piazzare qualsiasi intervento non vado a mettere solo quelli appunto i siti che sono già hanno la loro nomenclatura e un proprio codice quindi le zone speciali di conservazione ZSC le SIC le ZPS le zone di protezione speciale tengo conto anche dei cosiddetti IBA cioè quelle aree per intenderci sono gli areali e i corridoi avifaunistici che sono ridondanti rispetto ai confini delle zone di protezione speciale e dalle quali IBA sono state poi decretate le zone di protezione speciale quindi dobbiamo stare attenti che non vi siano interferenze con le IBA perché vi ricordo che alcuni piani regionali come dicevamo un'altra volta per l'energia e l'ambiente hanno già individuato i criteri e le aree idonee per la localizzazione quindi aree idonee e non idonee altri no ma che il DM li ha inseriti appunto anche l'IBA nelle aree da tenere in considerazione per le eventuali valutazioni quindi poi ogni regione si muove in maniera certo tutte quante in maniera più restrittiva ma va motivato va motivato quindi o con perse con piano regionale o con scelte con criteri che sono già stati selezionati dalla regione e poi le zone che rientrano nelle aree archeologiche storiche culturali paesaggistiche e i famosi territori con produzione IGP DOP DOC dei quali appunto bisogna tenere conto allora alcuni sono escludenti di questi criteri cioè non gli si possono fare gli impianti altri diventano criteri o siti di attenzione chiamiamoli così quindi il proponente deve dire vabbè certo io non posso andare a piazzare l'impianto laddove c'è un vincolo di inedificabilità assoluta laddove insistono dei vincoli che sono escludenti devo stare attento a come localizzo l'impianto ma anche tutte le opere di connessione derivazione per un impianto fotovoltaico si pensa al classico cavidotto di connessione alla rete esistente ma poi ci sono anche i cavidotti per l'implementazione di questa rete per effetto dell'impianto nelle stazioni utenze delle centrali quindi c'è tutto un mondo che ruota intorno al semplice impianto e poi devo anche capire se il mio progetto dal punto di vista anche della compatibilità con l'assetto paesaggistico e agronomico dei luoghi sia esso fotovoltaico che agrivoltaico chiamiamolo così che è misto abbia stia utilizzando dei moduli che siano compatibili e coerenti con gli elementi del paesaggio agrario per esempio pensiamo ai tracker monoassiali che ruotano e che possono raggiungere anche certezze che in un agrivoltaico o in un fotovoltaico rispettoso di alcune cultivar tipo i vigneti e gli oliveti può essere invece una scelta vincente guarda che io anche se piccolino il mio impianto non ti sto spiantando l'olivo il vigneto ti faccio il tracker monossiale che ruota e che comunque evita gli effetti di ombreggiamento fisso del suolo e mi consente anche di coltivare questo è anche un elemento abbastanza importante da giocarci dopodiché la devi dire se vi sono degli impatti se sono trascurabili se sono duraturi se sono positivi se sono negativi e se li risolvo se io li risolvo dimostro come li risolvo all'autorità competente e quindi quello che abbiamo visto noi adesso che nell'allegato 7 del decreto legislativo non fa altro che derivare da questo decreto del 2015 come li risolvo questi impatti appunto li risolverò con attenuazione quindi in fase di progetto già mitico gli effetti del cantiere attenuo faccio delle anticipazioni vegetali le faccio prima e poi mitico mitico quello che potrebbe essere il classico impatto che normalmente anche in aree esterne appunto non tutelate non direttamente tutelate per esempio ai piani paesaggistici è la trasformazione diciamo di carattere permanente ancorché non si sa se consumo di suolo agricolo e per 30 anni e molto spesso questi impianti se non vi fosse diciamo l'indicazione precisa da parte del valutatore questi impianti potrebbero se non finanziati pubblicamente e come dichiarato spesso dai proponenti rimanere oltre i 30 anni immaginate un paesaggio agricolo impegnato per quanto per le buone intenzioni e buoni risultati della transizione energetica impegnato per oltre i 30 anni quella diventa proprio trasformazione radicale del paesaggio quindi tutte queste motivazioni potrebbero essere per esempio rese e più come dire accettate anche dalla comunità se invece della solita dislocazione io ti presento un impianto io proponendo un impianto molto morbido molto diradato e che abbia una diciamo un inserimento paesaggistico che sicuramente assorbe anche gli impatti di carattere visivo in assenso e in presenza dei piani paesaggistici a quel punto non è importante perché ormai ce li abbiamo quasi tutti i piani paesaggistici già approvati ma per esempio in Regione Sicilia quello del mio comune e comunque il mio ambito ancora non viene approvato e ci sono territori di una certa sensibilità che vanno tutelati dei quali bisogna tenere in debita considerazione gli aspetti non soltanto strutturali e morfologici del paesaggio ma soprattutto percettivi da parte della comunità quindi come vi dicevo quello che è finito nell'allegato 7 è in questo decreto 30 marzo 2015 che appunto io vi ho reinserito perché questo decreto non viene fuori altro che dalle linee guida screening dell'Unione Europea 2017 ed è operativo quindi di nuovo si riprende tutto ciò che c'è nell'allegato 7 che vi invito ad approfondire perché è un supporto alla buona interpretazione dell'allegato 7 l'allegato 7 di fatto cosa ci dice? queste sono le informazioni che voglio e questi sono i criteri che tu proponente se vuoi mi puoi indicare come motivazione nelle tue scelte ma che io valutatore devo tenere in debito conto ok quindi io adesso mi soffermerei un attimino su questi criteri quindi oltre all'esaustività delle informazioni in ordine localizzazione interferenze impatti mitigazioni eccetera vediamo se il progetto come il progetto deve tenere conto di questi criteri che sono quelli che abbiamo visto elencati nell'allegato 7 e che ora vediamo sviluppati nelle linee guida caratteristiche delle sanitarie se le abbiamo già letto la sensibilità ambientale ok il primo punto sulla localizzazione dei progetti che un buon proponente deve argomentare è la sensibilità ambientale cioè quella che una volta si chiamava prima si chiamava capacità di carico e vabbè mica lo posso pressare sempre questo ambiente l'ambiente non è qualcosa di passivo per cui io carico 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 e poi a un certo punto reagisce no non è mai passivo l'ambiente allora è cambiata la cosiddetta capacità di carico e oggi si parla di sensibilità ambientale che è corretto ecologico e che comunque è più coerente con la capacità reattiva di un ambiente l'ambiente è qualcosa di vivo e vivente quindi non sta a fermo fino a quando non si raggiunge una capacità di carico interagisce continuamente con le pressioni esercitate lo abbiamo visto purtroppo anche col covid quindi si chiama adesso capacità di carico fisico ecologica beh qua vi ho portato un po' in corsivo ovviamente perché l'ho assolutamente copiato e siccome è una fonte ufficiale ve l'ho riportata e voi poi la potete chiaramente approfondire la cosa importante sono i criteri specifici cominciamo dal cumulo cos'è cosa si intende per cumulo secondo le linee guida il cumulo può essere esercitato in un raggio che poi viene stabilito è fissato sia da normativa da linee guida che da normativa regionale da impianti programmati e autorizzati della stessa fattispecie e taglia questo già è la prima quindi c'ho un impiantino di 7 megawatt 5 megawatt comincio a guardare quelli che sono della mia stessa taglia in un raggio in genere sono 10 km perché si guarda all'area vasta e poi anche in un raggio molto prossimo al mio molto spesso capita che ci sono o la stessa o la replica dell'impianto da uno stesso proponente senza che questo sia un frazionamento stiamo attenti perché il cumulo evita il frazionamento cioè se io ho un'istanza di un proponente per un 5 megawatt poi ce l'ho sempre dello stesso a minima distanza cioè a monte e a valle di una viabilità c'ho un altro 5 megawatt e tu hai detto no Giolemia questo è un 10 megawatt e te ne vai al ministero per esempio allora questo artato frazionamento viene evitato con l'analisi del cumulo tu mi devi dire cosa c'è di tua e di tutti gli altri nell'intorno considerato io comunque capisco se c'è un cumulo e mi devi spiegare tu se c'è e se può essere eventualmente superabile e qua si spiega ovviamente come interviene il cumulo come si somma quali sono le soglie da considerare come vedete è una linea guida molto chiara e che qualsiasi proponente secondo me se la segue non commette errori e comunque è consapevole se il proprio impianto il proprio progetto possa o meno determinare definire gli impatti addirittura c'è chi lo fa prima a sto lavoro e si arrende e dice guarda io ti presento direttamente l'articolo 23 e non ne parlo però giustamente per progressione di legge va fatta sempre l'articolo 19 qua ci sono le modalità le linee guida hanno detto vediamo come possiamo stabilire questo cumulo per opere lineari prendiamo un buffer una fascia di un chilometro appunto 500 metri per esempio all'asse del tracciato il caso di un elettrodotto per esempio che abbiamo visto rientrare poi invece l'opera areale si prende appunto si prende una fascia di un chilometro all'esterno dell'area del progetto quindi del sito di progetto ma poi le regioni come hanno fatto molte hanno determinato i propri criteri per determinare il cumulo altri no e si va in maniera come dice un mio amico avvocato romano spannometrica cioè uno dice aspetta un po' nell'ambito dei 10 chilometri io ho talmente tanta situazione determinata ovviamente da impianti analoghi e di stessa natura che mi guardo bene dal dire dall'escluderlo l'effetto cumulo poi lo posso anche se un effetto per esempio di cumulo che si riduce o si traduce negli aspetti percettivi quindi non c'è consumo di suolo non c'è consumo di risorse eccetera eccetera se sono bravo a compensare e a mitigare più che a compensare a mitigare questo effetto di cumulo percettivo con le mie opere di intervento in area agricola certo ma abbiamo visto nella normativa e vedremo pure nella normativa che la stessa attenzione va determinare va assicurata per molti piani paesaggistici nelle cosiddette zone di margine anche se io dovessi localizzare il mio intervento in un'area industriale o commerciale devo tenere sempre conto di una fascia tampone capace di evitare l'impatto visivo anche di carattere cumulativo e quindi che comunque in qualche modo assicura la non invasività sia dell'impianto mio ma probabilmente anche di altri impianti si chiama mitigazione ex situ e diventa quasi una forma di compensazione le aree sensibili dobbiamo andare a vedere appunto se si tratta di zone umide sono tutte aree normate quindi nello studio io ve le scorro zone costiere ci sono i 300 metri c'è il paesaggistico zone montose forestali come vedete quel mero elenco dell'allegato 7 alla parte seconda del decreto legislativo è sviluppato qui non ve lo leggo ovviamente ve l'ho dato come supporto quindi avete diciamo una cassetta degli attrezzi tutta in questa piccola slide le riserve le zone protette speciali le abbiamo viste e qui è tutto dettagliato perché in questo dettaglio delle linee guida ci sono anche riferimenti normativi quindi quando lo studio viene fatto con questo approfondimento e con la verifica anche eventuali riferimenti normativi della regione perché lo stato ha dato quelli principali ma quando si tratta appunto di sviluppare in un sito locale dove appunto le regioni le autorità di bacino normano continuamente a tutela delle proprie risorse diventa molto importante sia il riferimento nazionale laddove interviene solo il riferimento nazionale e l'eventuale recepimento regionale laddove invece ci sono norme statutariamente scritte alle competenze regionali questo vi serve come base ed è fondamentale per valutare e sviluppare ci sono due aspetti molto importanti uno dei criteri dell'Unione Europea che è entrato nelle checklist appunto negli studi per la verifica di assoggettabilità via è la zona a forte densità demografica cioè ma cosa accenta questo criterio all'interno di tutti questi criteri di carattere ambientale non dobbiamo dimenticare che oltre alla natura alla biodiversità la via va a tutelare la salute pubblica e la popolazione quindi stiamo attenti se c'è un rischio che può venire fuori da un progetto se vi sono degli impatti anche sulla percezione la costituzione difende i diritti del paesaggio e che la collettività comunque goda di un paesaggio gradevole molto spesso come è stato dimostrato da un grande psichiatra che era Bateson Bateson cosa ha detto a un certo punto il disagio viene fuori da un contesto anche fisico che agevole il disagio quindi siccome viene comunque tutelata la salute e la popolazione la zona a forte densità demografica è un alert di carattere ambientale molto importante di cui non si deve mai conto e poi gli altri criteri andiamo alla via adesso per la via sappiamo che la via è normata all'articolo 23 quindi come vedete poi per quanto riguarda la verifica soggettabilità poi ci sarà un secco parere che non tiene conto più abbiamo detto delle disposizioni eventualmente da da impartire e quindi ci si esprime cosa succede poi chiaramente il progetto ti racconto degli altri pareri degli altri enti e si realizzerà andiamo invece a via a via può essere un progetto assoggettato dalla procedura ex articolo 19 o un progetto che già rientra appunto per taglie dimensioni e tipologie negli allegati che noi abbiamo visto all'inizio quindi che sono praticamente il 2 e il 3 bis l'articolo 22 norma nel decreto legislativo 152 lo studio di impatto ambientale che deve contenere obbligatoriamente queste informazioni la descrizione ovviamente del progetto che poi sono molto simili a quelli della verifica della soggettabilità ma è assoggettato quindi deve entrare ora nel merito della dimostrabilità della sua sostenibilità c'è un progetto assoggettato a via mentre per quello che non è assoggettato a via deve mantenere le condizioni che lo stesso proponente ha disposto e individuato ok? e quindi a quelle condizioni quel progetto andrà avanti per la via non è lo stesso per il progetto che va via potrebbe esserci anche un progetto un parere di compatibilità negativa motivato anche negativo quindi in genere appunto lo studio via deve essere appunto al pari della verifica molto di più corredato a tutti quei dati che sappiamo essere comunque di base per i livelli sia il progetto di fattibilità che di progetto definitivo quindi li deve avere tutti in più deve appunto descrivere gli effetti significativi descrivere gli impatti deve descrivere le alternative ragionevoli l'analisi delle alternative localizzative e tecniche funzionali deve fare parte di un capitolo ad hoc dello studio di impatto ambientale lo studio di impatto ambientale adesso ha questo elenco di contenuti e finalmente sia adeguato alla guida allo scoping del 2017 ma fino a qualche tempo fa con le due normative nazionali in materia di via teneva conto dei famosi tre quadri di riferimento ricordate il quadro di riferimento ambientale il quadro di riferimento programmatico e il quadro di riferimento progettuale che però ancora secondo me hanno una loro importante validità cioè io ancora sono del parere che gli studi vanno strutturati così perché se poi andiamo a seguire le linee di guida del SNPA 28-20-20 non è altro che un approfondimento di questi tre quadri quindi per quanto superati i DPCM e il DPR l'uno appunto dell'88 e l'altro dell'97 la costruzione di uno studio di impatto ambientale con i tre quadri classici io la manterrei in vita perché per chi valuta valuta in ordine al quadro di riferimento istituzionale e programmatico quindi le leggi gli strumenti piani progetti e programma che sono ritenuti pertinenti e laddove ne mancano il valutatore deve dire che mancano e vanno integrati la stessa cosa il quadro di riferimento progettuale è lì che mi vado a giocare appunto le alternative devo dimostrare all'autorità che valuta che queste alternative sono state prese in debita considerazione che quello è il sito che è nel raggio di boh un'indagine condotta nell'area vasta dei 10 km 20 km era quello che garantiva che il progetto fosse compatibile e sostenibile con l'ambiente oltre che appunto mantenesse gli obiettivi di performance ambientale senza pregiudicare le risorse naturali e lo stato dell'ambiente dopo di che le mitigazioni e qui anche le compensazioni quindi va fatto proprio un progetto che va stimato di mitigazioni che possono essere appunto attenuazioni con l'implementazione dei criteri ambientali minimi ma mitigazioni in tutte le fasi di esecuzione ma anche di esercizio ed eventuali compensazioni c'è laddove il redattore dello studio di impatto ambientale rilevasse il non superamento di alcuni impatti attraverso gli interventi mitigativi chiamiamoli così e quindi consuma di fatto una risorsa perché di questo si tratta a meno delle risorse che stanno nei siti della Rete Natura 2000 quelli non li devi consumare perché probabilmente appunto l'effetto compensativo comporta l'intervento del Ministero e della Commissione Europea quindi la compensazione può essere fatta anche ex situ tenendo in debito conto che comunque nella via può intervenire l'integrazione con la valutazione di incidenza ambientale appunto per i siti della Rete Natura 2000 sia esterni che ricompresi nel sito del progetto quindi dobbiamo stare attenti anche che sapete benissimo che la viautazione di incidenze in via fatta appunto in maniera integrata deve tenere conto che comunque si valutano anche a una certa distanza e molto spesso i cosiddetti buffer di valutazione li hanno deciso le regioni per alcuni sono 5 km per altri sono 6 dipende dalle localizzazioni e dai siti della Rete Natura 2000 contemplati quindi stiamo attenti che mitigazioni ed eventuali compensazioni possano anche intervenire a favore di questi siti cioè immaginate un grande impianto fotovoltaico che comunque comporta non una trasformazione permanente ma un'occupazione di suolo o potrebbe comportare cosiddetto effetto lago per cui ci potrebbe essere l'abbagliamento quindi oltre a dilatare l'impianto per la vifauna e creare delle mitigazioni di verde anche con la stessa eventuale coltivazione agricola nell'agrivoltaico posso dire a un certo punto che data la prossimità a certi siti che vedremo nelle tre immagini che vi proietterò alla fine io ritengo come ho ritenuto di inserire in un parere che posso applicare un'indicazione di un piano di gestione che dovrebbe in teoria valere per tutto l'agro ecosistema del sito della Rete Natura a 2000 fuori dal perimetro dentro il perimetro del sito quindi vado a compensare in un'area protetta e quindi garantisco il miglioramento delle condizioni che non vado naturalmente a peggiorare ma per le quali posso creare delle interferenze e quindi siccome sottraggo il suolo agricolo per un certo tempo e non garantisco che l'agro ecosistema possa essere fonte di stazionamento e di alimentazione per alcune specie che si ritengono disturbate vado a compensare all'interno di un'area prossima appunto un sito della Rete Natura 2000 vado a fare a mie spese e con l'accordo con gli enti preposti alla gestione riserve appunto siti della Rete Natura 2000 interventi previsti da quei piani di gestione quindi io posso andare anche a compensare a questo punto compenso ex situ la misura di compensazione se vi ricordate è stata introdotta proprio dal DM rinnovabili di cui abbiamo parlato ed è sempre frutto di un accordo appunto tra il proponente il comune su una o una condizione che lo stesso si dà all'interno dello studio di impatto ambientale che molto spesso appunto è così oppure all'interno della valutazione un parere intermedio istruttorio o anche reso in conferenza dei servizi se si tratta di paura dato dal valutatore quindi tutte queste questi elementi vanno valutati anche nel computometrico di progetto vi leggete non ve li leggo i contenuti dello studio di impatto ambientale che sono dell'articolo 22 e andiamo alle linee guida in che cosa vi servono appunto le linee guida SNPA quindi abbiamo detto che al pari della situazione che abbiamo visto dell'articolo 19 quindi necessità delle informazioni necessità del rispetto dei criteri necessità di tutelare tutte le componenti che per legge deve tutelare la valutazione di impatto ambientale fa un buon passaggio un buon approfondimento ma traducendo le linee guida scoping sia sui principi generali ma soprattutto su ciò che sono considerate le tematiche ambientali che lo studio deve affrontare ovviamente sono le tematiche disposte dalla direttiva comunitaria recepite dal decreto legislativo 152 ma sono molto ben argomentate e commentate non ve le ho ripartate tutte le rivedrete nello studio nelle linee guida ma un'attenzione particolare da dare per e da attribuire per i fotovoltaico e quella è la componente suolo suolo e patrimonio agroalimentare geologia e acque sappiamo anche quali possono essere le motivazioni quindi il calirotto se eventualmente interferisce appunto un sito protetto l'atmosfera e appunto il paesaggio il patrimonio culturale e i beni materiali l'analisi e le pressioni vengono tutte elencate e sono appunto compresi gli agenti fisici quindi le vibrazioni il rumore le radiazioni non ionizzanti e sappiamo che per esempio per il fotovoltaico va fatta proprio la relazione per tutto ciò che può generare appunto elettro radiomagnetismo vanno fatte queste relazioni non si va avanti se non si ha il parere dell'ASP e l'inquinamento luminoso e ottico per alcune estensioni e per prossimità appunto a centri densamente popolati anche l'eventuale rollio potrebbe superare i livelli di classificazione acustica importante è l'approfondimento dell'area di studio e delle caratteristiche dei dati quindi il sito locale di intervento è l'area vasta e questo poi ve lo dice la linea guida vado un po' veloce perché ho visto ci sono parecchie domande dopo di che se vi leggete tutte le linee guida SNPA vedrete come ogni contenuto che è elencato sia nell'allegato e nell'articolo 22 del decreto legislativo viene assolutamente redatto come linea guida specifica quindi vi mettete accanto questa linea guida e sviluppate lo studio una scorsa veloce io ho preso un esempio di ciò che è con una buona overlay sia dai sistemi informativi territoriali che dal fatto che comunque il proponente è presente a shapefile sovrapponibili ci sono delle aree dove vedete c'è un addensamento di fotovoltaico davvero impressionante noi siamo qua in Sicilia vicino a Augusta laddove invece c'è un paesaggio locale che in qualche modo dovrebbe inibire o comunque contenere l'esplosione di questi interventi stessa cosa quando vado a mettere insieme tutte le tutele vedete come si addensa il sito che già è addensato di pannelli e di agricoltura intensiva ma guardate i vincoli che ci sono da considerare sia per l'effetto cumulo che vi dicevo prima io sia per appunto poi lo vedrete nella lettura delle slide se vado a metterci anche poi la rete natura 2000 cioè non è solo il paesaggistico vedete questa è la piana di Gela dove vi sono due importanti siti della rete natura 2000 e vedete anche la stessa piana scusate laddove noi andiamo a mettere l'altro sistema vincolistico io mi fermo spero di avervi dato un sussidio anche veloce per andare a rivedere la redazione degli degli studi e mi approssimo a leggere le domande la prima è di Antonio Mari che dice anche l'identificazione del frazionamento artificioso i progetti taglia superiore per sfuggire la votazione sì il decreto legislativo è stato abrogato sì ma infatti le linee guida che non hanno a che fare con appunto il decreto legislativo eh del 99 e le linee guida proprio dicono che il cumulo evita evita l'insorgere di una di un frazionamento artificioso grazie ad Antonio Mari che ha citato la normativa ma proprio al rafforzamento di questa normativa le linee guida hanno statuito la funzione della descrizione dell'effetto cumulo perché da lì si vede se c'è un frazionamento artificioso laddove non si potrebbe vedere magari in altre procedure Stefano Nocco premesso che i progetti a sottoporre via o verifica la soggettabilità via devono essere redatti e sottoscritti da tecnici eh lo so dovrebbero competenti abilitati la specifica materia oggetto e progetto e che la competenza dei tecnici non è data solo all'esperienza maturata eh sì diciamo in un mondo perfetto è così eh allora noi non possiamo fare alcuna verifica per la procedura di valutazione incidenza la regione siciliana mantiene eh la richiesta eh che il tecnico dichiari di essere competente eh professionista competente in materia ambientale sia per curriculum che per studi e deve allegare i curriculum agli studi eh purtroppo noi non non possiamo fare verifiche preliminari la norma non ci dice di fare verifiche preliminari ci suggerisce le mie guida europee la direttiva aggiornata il 107 del il 104 del 2017 che aggiorna la via che confluisce appunto nel 152 2006 ci dice appunto che devono essere redatti da 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 progetti da tecnici competenti in materia ambientale però non possiamo fare una verifica sulla competenza dei tecnici perché poi il tecnico viene scelto dal proponente di parte quindi è il proponente di parte che dovrebbe assicurarsi che il proprio tecnico che dichiara di essere competente a chi valuta sia veramente competente no purtroppo non possiamo l'assenza della dichiarazione laddove prescritta per legge costituisce motivo di richiesta di integrazione ma mai di archiviazione o di ricetto non esiste nel quadro di riferimento normativo nostro Paola Cavazzi le ha detto tra le condizioni a valutare in ambito localizzativo o di impatto sì se sono sicura scusate sì leggo bene allora aspetti aspetti perché mi è sfuggita la domanda che stavo leggendo ah sì se sono sicura che non comporta variante urbanistiche allora io mi riferivo eravamo nel contesto del fotovoltaico come sapete dal DM 2010 tutto il fotovoltaico che viene realizzato in area agricola quindi ritenute idonee dallo Stato da questo DM non comportano variante urbanistica tutte le altre si comportano variante urbanistiche cioè comportano in sede di valutazione del progetto o in sede di conferenza di servizi l'espressione del parere del competente servizio regionale quindi se comporta variante urbanistiche in sede di via o di conferenza di servizi via come vi ho detto si rileva la necessità tra l'altro anche decreto ultimo semplificazioni lo ha messo in evidenza che va avviata appunto l'eventuale procedura di VAS ma questo va deciso in conferenza di servizi o comunque anche nell'articolo 26bis che è la verifica preliminare che il proponente chiede prima della conferenza dei servizi 27bis o comunque con l'articolo con tutti gli articoli del codice dei contratti che consentano al proponente anche di chiedere se e come diciamo se la documentazione e il progetto di relazione dell'ossia dell'ossia impatto ambientale è sufficiente questi momenti di confronto e di raffronto si possono avere in qualsiasi momento con l'autorità ambientale anzi benvengano quindi laddove c'è la variante va segnalata che c'è la variante urbanistica quindi l'eventuale ricorso a VAS se ne dovessero ricorrere gli estremi va appunto affrontato all'interno di questo procedimento ah la minima distanza mutua questo è l'effetto cumulo degli impianti offshore c'è una normativa appunto nazionale che è stata stabilita ma vi sono normative regionali che hanno stabilito pure loro le distanze quindi non è che si può dire sempre caso per caso nell'ultimo decreto legislativo sono state individuate ma già ci sono regioni che rispetto all'ultimo decreto semplificazione si sono attrezzate sulle distanze minime noi in regione siciliana addirittura se ci sono siti e la rete natura domina come facciamo a via distanza minima devi sicuramente travalicare quella quindi il caso per caso conta moltissimo su queste distanze degli offshore Stefano Mocchi il progetto sottoporre avvio screening oltre alla proposta progettuale si intende a realizzare deve contenere anche alternative alla sua realizzazione compresa l'alternativa zero assolutamente di non esecuzione dell'opera un provvedimento di via adottato per un progetto privo di indicazione e descrizione di questa alternativa è illegittima allora non si arriva mai al provvedimento di via se non si chiede perché ci sono due passaggi diciamo c'è un parere iniziale intermedio che appunto può essere di richiesta documentale lo sappiamo nel procedimento questo c'è non si arriva mai a bocciare un progetto perché non vi siano le alternative localizzative le alternative sono state prevalutate quindi nella fase di valutazione intermedia e di parere finale e quindi non si può mettere come motivazione il rigetto quindi c'è stato qualche problema o del proponente o comunque in fase valutativa istruttoria è parte emotiva del provvedimento quindi tutto ciò che deve essere fatto all'interno dello studio di impatto ambientale compreso l'analisi delle alternative deve essere già stata valutata in sede di provvedimento il consiglio di stato con la pronuncia in compegno chiede Antonio Amari sì in commento ha riformato la sentenza del TAR raccogliendo l'appello proposto dall'amministratore regionale in primo luogo evidenziando la violazione la prescrizione secondo la quale lo studio di impatto ambientale deve contenere tra informazioni ragionevole eh bisogna vedere allora sapete benissimo che le sentenze sono tutte legate alle motivazioni per cui si ricorre a un TAR o una Corte evidentemente tra le motivazioni e il rigetto io non conosco la pratica ci sarà stata una cattiva comunque eh diciamo esposizione delle motivazioni che ha condotto in maniera non riesco a capire come irragionevolmente mettere un parere per cui poi il consiglio ha genericamente o per quella fattispecie eh indicato ma è troppo astratto io dovrei appunto dovremmo eh leggere appunto la sentenza del Consiglio di Stato che ripeto ogni sentenza diventa giurisprudenza nella misura in cui sia estensibile a fattispecie e motivazioni omogenee analoghe quindi tra l'altro io ho una serie di sentenze che supportano quella riportata dal collega per altre eh assenze in parte emotiva o parte istruttoria o nello studio di impatto ambientale lo studio di impatto ambientale viene valutato e quindi anche il progetto perché noi dobbiamo capire che la valutazione è complessiva la valutazione di sostenibilità ambientale tutto ciò che concorre compresa l'alternativa di progetto a dimostrare una maggiore o minore compatibilità o sostenibilità delle alternative poste in gioco e dirimente quindi il consiglio di stato ha ben fatto a rilevare l'importanza fondamentale dell'analisi delle alternative compresa l'alternativa o scenario zero e a poi decidersi adesso poi magari mi vado a vedere lo specifico eh motivo del contendere del contenzioso che si è attivato e poi eh una specifica sezione in cui il tribunale di stato poi ha deciso di eh motivare parte della propria sentenza io vi ringrazio e spero di essere stata insomma esaustiva e chiara sia per la tematica che certo non è di facile gestione eh ma comunque credo vi dato un supporto abbastanza importante sia nel momento in cui dobbiate svilupparli gli studi per i due livelli sia per l'articolo 19 che per il 23 sia in quanto poi li dovreste valutare vi auguro a tutti una buona prosecuzione molte grazie soltanto una piccola precisazione per amore di completezza te l'avevo segnalata e mattia sfuggita il il collega eh scriveva che il primo era un campo da golf e la seconda sentenza era per un aeroporto così per contestualizzare la risposta va bene grazie al collega no io purtroppo nella nella velocità della lettura ma comunque qualsiasi sia la tipologia eh è il tema che giustamente viene sollevato o campo da golf o aeroporto è un tema che attiene la localizzazione c'è sicuramente ciò che emergerà da questi contenziosi attivati è che la localizzazione di opere che hanno un certo impatto compreso sulle aree densamente eh abitate al di là poi della tipologia che è giusto che sia stata segnalata perché un campo da golf ha impatti notevoli al pari quasi dell'aeroporto voglio dire eh da quel punto di vista rilevava la localizzazione e l'alternativa localizzativa quindi è anche come dire lo stato si è anche espresso sulla dimensione e le componenti ambientali poste in gioco che credo siano tutte in questo caso per le due opere siano tutte quelle che si devono prendere in considerazione la biodiversità la popolazione i disturbi il rumore le vibrazioni i danni a edifici per esempio l'aeroporto vicino che crea vibrazione quindi la localizzazione lì in quei casi era davvero dirimente quindi in quei casi proprio la l'analisi e l'alternativa era davvero importante per il decisore perfetto grazie ancora grazie all'architetto Liuzzo per la presentazione chiarissima e apprezzata dai nostri partecipanti grazie ai partecipanti vi ricordo che nel pomeriggio avrete a disposizione le slide presentate e la registrazione e vi ricordo anche che da domani avrete attestata la presenza al webinar quindi andando sull'area i miei eventi e dopo aver compilato il questionario anonimo di gradimento potrete scaricare l'attestato di iscrizione a questo webinar vi segnaleremo ulteriori iniziative per email come abbiamo fatto per queste prima di trovarlo su eventi via come al solito nel calendario detto questo vi auguro un buon proseguimento di giornata e saluto tutti e vi ringrazio per la partecipazione grazie mille